ciao ragazzi sono qui per registrare un velocissimo video per mostrarvi come si comprano i perc dalla campagna di crowdfunding di lumina 2 allora andate sul sito indigogo.com lo vedete lo potete raggiungere anche cliccando i link che condividiamo su facebook e sugli altri social network o comunque dal vostro browser scrivete indigogo.com andate su questa casellina e cercate il nostro progetto lumina 2 invio vi arriveranno ecco appariranno i risultati da ricerca il primo è il nostro progetto il secondo volume di lumina by pin de lumi cavallini siamo dentro la pagina di indigogo sulla sinistra avete la descrizione del progetto è tutta in inglese mentre sulla destra avete la colonna con i perc selezionati io sono un po poverino quindi selezionerò il perc da 25 euro anzi selezioniamo il perc da 35 euro quell'umina libro più labbook che secondo me è la scelta più bella ovviamente voi la vostra scelta più bella dovrà essere un perc almeno da 3.000 euro non sono contenti clicchiamo sul perc 35 euro apparirà questa finestra questa immagine dove sulla destra abbiamo la nostra fra virgolette ricevuta che ci sintetizza quello che stiamo comprando perc da 35 euro lumina 2 più artbook e qui abbiamo sulla sinistra shipping address quindi il vostro indirizzo inseriamo i nostri dati campi italia per l'italia le spedizioni sono ripete dopodiché inseriamo il nostro indirizzo ovviamente in questo caso censuro l'address line 2 è optional non dovete necessariamente inserirlo clicchiamo continuo to paypal apparirà alla finestra del pagamento eccola qui allora potete loggarvi con account paypal se ce l'avete oppure pagare con una carta di credito o di debito selezioniamo lo stato in cui insediamo quindi l'italia la nostra lingua l'italiano e poi inseriamo i dati della nostra carta di credito qui scegliete maestro visa mastric ad eccetera il numero di carta inserite qui mese e anno la data di scadenza il cdv e i vostri dati i dati questa casellina serve se volete registrare il vostro account come un conto paypal io la disattivo cliccate rivedi e continua e il gioco sarà fatto confermerete la operazione e avrete acquistato il vostro pack se la campagna andrà a buon fine la loro operazione stessa del pagamento andrà a buon fine quindi riceverete a casa il pacco con il vostro libro che avete scelto se la campagna non andrà a buon fine i soldi della carta di credito vi ritorneranno sul conto condividete aiutateci a supportare il progetto e vi ringraziamo della vostra del vostro supporto ciao a tutti mi raccomando